Interviene Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. Procede la rivoluzione digitale. Approvati dalla Giunta regionale 11 interventi per complessivi 150 milioni di euro. Sono state approvate, dall'Aggiunta appunto, le direttrici fondamentali del programma Puglia Digitale con l'obiettivo di accelerare nella digitalizzazione dei servizi ai cittadini e alle imprese nella consapevolezza che proprio dall'effettiva digitalizzazione passano sia il pieno riconoscimento dei diritti fondamentali del cittadino, sia la capacità di accrescere la competitività complessiva del nostro sistema produttivo. Sono 11 in tutto gli interventi programmati e approvati dalla Giunta su mia proposta di Chiara Borracino di concerto con l'assessore con delega alla programmazione unitaria Raffaele Piemontese che contribuiscono a definire il programma Puglia Digitale per un valore complessivo stimato di circa 150 milioni di euro. Queste azioni molto diversificate tra loro rispondono in modo innovativo ai fabbisogni dei vari soggetti interessati, cittadini e imprese innanzitutto, con l'obiettivo di consentire un accesso più facile e completo ai servizi ressi non solo dall'ente regionale ma in modo soprattutto integrato ed interconnesso da tutti gli altri attori pubblici come comuni, enti locali e aziende del servizio sanitario regionale. La Giunta regionale ha quindi stanziato circa 58 milioni di euro per avviare i primi due interventi finalizzati da un lato a promuovere la migrazione dei servizi resi dalle amministrazioni pubbliche pugliesi verso il modello cloud attraverso il data center regionale e dall'altro realizzare un sistema regionale di sportelli unici con il potenziamento del sistema informativo territoriale SIT della Puglia a supporto dell'azione amministrativa degli enti locali. Con successivi provvedimenti saranno stanziate poi le altre risorse necessarie pari ad ulteriori 90 milioni di euro per la realizzazione delle altre misure previste. E conclude così Borracino siamo certi che attuando queste iniziative otterremo un duplice risultato da un lato aiuteremo le amministrazioni pubbliche ad essere maggiormente connesse e quindi più trasparenti ed efficienti nell'offrire servizi sempre più avanzati ai cittadini ottenendo anche sensibili risparmi in termini di spesa pubblica e dall'altro forniremo un supporto concreto al sistema produttivo regionale che potrà ottenere risposte più veloci e sicure dai decisori pubblici.